Sconcerto a Roseto degli Abruzzi e a Scerne di Pineto per l'arresto a Cuba di Rolando Di Gregorio, falegname rosetano di 56 anni, accusato di aver ucciso un imprenditore calabrese. Una vicenda che ha destato incredulità e stupore tra i parenti e gli amici di Rolando Di Gregorio che vivono nei due comuni della provincia di Teramo. Il falegname vent'anni fa aveva deciso di andare nelle isole caraibiche tra Santo Domingo e Cuba per stare vicino alla moglie e i suoi due figli, ma la sua intenzione era di vivere sei mesi all'estero e sei in Abruzzo. Lo scorso primo marzo però nel corso di una lita avvenuta nella cittadina di Lastunas, nella parte orientale di Cuba, secondo l'accusa avrebbe colpito e ucciso con un oggetto contundente alla testa l'imprenditore Francesco Schammarella, 76enne calabrese. La vicenda è ancora tutta da chiarire, secondo una prima ricostruzione degli investigatori Di Gregorio avrebbe ottenuto da Schammarella un prestito di 500 euro, ma al momento della richiesta di restituzione del denaro i due avrebbero litigato e il diverbio sarebbe sfociato in tragedia. Agli investigatori dell'isola caraibica Di Gregorio avrebbe detto che si è trattato di una tragica fatalità, poiché l'imprenditore dopo aver colpito con un casco avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduto all'indietro battendo la testa contro lo spigolo di un gradino. Per la ferita riportata alla fronte il Falegname è stato portato in ospedale dove gli sono stati applicati sette punti di sutura. Il fratello di Rolando non crede alla colpevolezza e si sta impegnando per riportarlo in Italia. Anche gli amici vicini di casa di Rolando esprimono incredulità riguardo l'accusa di omicidio. Lo descrivono come una persona tranquilla, disponibile, lavoratrice e sperano che possa tornare presto in Italia.